Io non credo nei carrozzoni o nelle grandi aggregazioni, in un momento in cui c'è anche questa forma anche provinciale che non è né carne né pesce, dove il presidente della provincia viene eletto dagli amministratori ma non dai cittadini, dove le funzioni non si capisce ancora quali saranno, dove c'è una linea estremamente chiara anche dal punto di vista dei governi, sia questo che quelli precedenti, di scioglimento anche di tutta una serie di società partecipate. Io penso che il sistema migliore per dare servizi ai cittadini, ed è questa l'idea che stiamo parlando avanti, e è partito questo primo nucleo di sindaci per quanto riguarda proprio il settore della sicurezza pubblica, è quello non di consorzi, non di aggregazioni strutturate, ma di contratti di servizio. Quindi concretezza al servizio del cittadino. Sì, perché non è tanto la sovrastruttura che deve essere creata, ma è il servizio al cittadino che deve essere erogato. Quindi l'idea che poi si sta anche concretizzando nel campo della sicurezza pubblica è proprio quella dei servizi associati. Grazie a tutti.